Ho fatto qualche tavolata, ho spostato qualcosa, eccetera, e per un motivo X devo ritornare alla mia situazione iniziale. Se io vado sulle mie preferenze, vedete, posso andare in parte della gestione delle finestre e posso, reimposta la posizione delle finestre a valori predefiniti. La trovi su, ha strumenti. Vai, modifica, preferenze, gestione finestre, reimposta. Se io adesso riapro Gimp, mi ritroverò i miei livelli. Se io voglio che lui quando si apra, mi apre sempre così, quando chiudo, vedete che lui si ricorda la posizione che c'era precedente. Ma se io voglio che questa sia la predefinita, per esempio, posso andare su preferenze e gli dico sulla gestione finestre, salva ora la posizione delle finestre. Cosa significa? Divento la predefinita. In questo momento io l'ho messa come predefinita. Se per un motivo X faccio una serie di cose del genere, ho fatto un casino, modifica, preferenze, gestione finestre, reimposta. Al momento che io riaccedo al mio Gimp, mi ritroverò quella che è la predefinita. sempre su questo menu di preferenze, posso giocare sulle mie, sull'ambiente, sull'interfaccia, posso stabilire i tasti di scorciatoia, posso ripristinare, posso salvare, se ne faccio di nuovi, posso ripristinarli o posso rimuovere tutti i tasti di scorciatoia. Posso usare dei temi, posso tirare giù da internet una serie di temi e avere dei nuovi temi. Posso giocare sugli strumenti. La mia immagine, vi ricordate quando faccio file, nuovo, mi parte già con 640-400? Posso dire no, ne voglio a 800x600. Quindi già quando partirò, devo riavviare Gimp. Partirò con 800x600. Posso giocare sulla griglia. Vi ricordate l'altra volta che abbiamo visto la griglia per definire dei puntini, eccetera. Posso stabilire la larghezza, l'altezza, quante ne voglio, lo scostamento, il colore continuo, lo voglio a punti, a crocini. Invece di avere delle linee di griglia, io posso dire avere a crocini. Cosa significa? Significa che se io ho la mia bella immagine nuova e abilito... Dov'era? Griglia, ce l'ho trocine. Sì, sono intersezioni delle leccate. Cosa? Sono intersezioni della griglia. Ricordate? La griglia mi serviva per avere dei punti, però potevo anche mettere griglia, griglia magnetica ed a quel punto lui si adattava ad andare nei punti più angolati. Posso fare gli aspetti, i titoli, la visualizzazione, scacchi medio, medio, gestione dei colori, dispositivo o posso anche giocare sulle cartelle. Cosa significa? Cartelle di file temporanei e cartelle di scambio. Vado via. Ok. Ti saluto. Grazie perché è stato un bromo. Però dove sei stato? Sì, sì, per primo. Già non ci serviamo. Ok? Ci vediamo! Ciao! Ci sono domande particolari? Purtroppo non è che io mi insegno a disegnare. Mi insegno a disegnare. C'è uno strumento che va preso e che va provato. L'ultimo giro lo fanno su due operici. Abbiamo perso tanto all'inizio. Ci hanno cercato di farvi vedere tutti i ping, i singoli comandi. Quello della foto di tocco è da provare un po' di volte. Bisogna sbagliare un po'. Come succedono tutte queste cose? Ma lo riservo è quasi comodabile. Fa tornare in testa praticamente. No, ma in testa non mi hanno perso fare in parecchio. Non mi chiediamo su un video. Teniamo presente che stai usando anche un video che è una soluzione non piacevole. Sì, è stato un punto di vista. Però poi sto spesso. Non mi chiediamo. Ok. Allora... Andiamo... Grazie a tutti.